ciao benvenuti su spiegato semplice oggi vi mostrerò qualcosa di interessante potrete invitare le persone a partecipare a una metri chiamata attraverso il link molto semplice da fare andando qui su chiamate dobbiamo cliccare dove c'è scritto appunto crea link alla chiamata chiunque abbia whatsapp potrà usare questo link per partecipare alla chiamata condivido solo con persone con persone fidate ovviamente possiamo scegliere innanzitutto che tipo di chiamata creare allora possiamo creare una videochiamata oppure una chiamata vocale facciamo videochiamata a questo punto possiamo invitare le persone inviando il link direttamente tramite whatsapp oppure possiamo copiare il link e condividerlo su altre piattaforme su altre chat o cliccare detendere su condividi il link e qui si aprirà l'elenco con tutte le varie applicazioni andiamo ad esempio a invitare le persone direttamente su whatsapp invia link tramite whatsapp seleziono il gruppo ad esempio spiegato semplice come vedete si è creato appunto il link per poter partecipare alla videochiamata di conseguenza chi andrà a cliccare su questo link potrà partecipare perché facciamo una prova partecipa alla videochiamata come vedete appunto si è aperta la schermata per partecipare alla videochiamata a questo punto basta cliccare ovviamente su partecipa come di vista è molto semplice invitare le persone attraverso il link bene non mi resta altro che augurare una buona continuazione di giornata vi ricordo di lasciare un like di commentare e se ancora non l'aveste fatto mi raccomando iscrivetevi al canale di spiegato semplice ci vediamo presto in un prossimo video ciao